Per chi ama produrre il proprio vino con gli stessi sistemi usati dalle grandi aziende vinicole, Albrigi ha realizzato Eurotank, una nuova linea per la produzione di piccole quantità di vini pregiati. Albrigi ha voluto apportare tutta la sua esperienza nella realizzazione di grandi impianti di fermentazione e stoccaggio anche sui piccoli serbatoi, dai 300 litri fino a 5000 litri. La linea dei piccoli serbatoi Albrigi Eurotank permette di produrre infatti piccole quantità di vino con gli stessi sistemi usati nelle più grandi e rinomate aziende vinicole.